Un padiglione interamente dedicato ai malati Covid-19 con 72 posti letto, di cui 14 di terapia intensiva e 58 ordinari. È stato inaugurato questa mattina il Covid Center dell'azienda universitaria di Careggi, un ospedale nell'ospedale, un padiglione autosufficiente anche per i malati gravi che hanno bisogno di subintensiva e intensiva. Il Covid Center è stato realizzato con la conversione del padiglione in cliniche chirurgiche e da aprile è pronto all'uso in previsione di una seconda ondata di coronavirus. Ma è evidente che queste 14 postazioni di terapia intensiva ricavate in uno spazio molto isolato di Careggi, in un complesso che non ha assolutamente contatto, rendono un ottimo servizio e contemporaneamente altre postazioni Covid, ovvero di chi o l'ha ma senza bisogno di andare in terapia intensiva o di chi esce dal Covid e quindi ha bisogno di stare ancora perché contagia ma non riesce naturalmente a sviluppare altre forme di presenza perché è ancora in grado di contagiare, 58. Il padiglione Covid di Careggi si trova al quarto piano e può essere isolato totalmente. I letti saranno attivati progressivamente in relazione all'andamento dell'epidemia. Il materiale sanitario a circa 600 mila euro è stato acquistato grazie alle donazioni ricevute dall'azienda di Careggi e dalla Fondazione per l'emergenza Covid con il supporto della protezione civile Estar. Grazie. Grazie.